Inizio a pensare che oramai i miei Receipt Podcast abbiano una sorta di aura benedetta verso Verstappen, tutte le volte che guardo una gara di Formula 1 di conseguenza ne parlo qui sul mio canale, l'olandese vince in modo più o meno dominante e lo fa anche a Imola nel Gran Premio di Ritorno del Made in Italy e dell'Emilia Romagna dopo l'alluvione dell'anno scorso che appunto ha costretto il GPD Imola a saltare un giro, appunto Verstappen fa come nel 2022 dove ero presente by live, recuperatevi peraltro il vlog perché comunque è sempre molto interessante. All'epoca fu doppietta Red Bull con appunto Verstappen I e Perez II ma appunto il secondo prese 15 secondi di vantaggio, a Imola invece abbiamo avuto un arrivo allo sprint in una gara che comunque è arrivata a classificarsi secondo me come tremendamente noiosa ma appunto Imola non passa la storia per una pista che appunto regala spesso delle gare spettacolari, anzi il più delle volte sono gare di strategia ai box o come evidentemente quella di oggi con pochissime possibilità di sorpasso se non appunto alla fine del rettilineo, alla variante del tamburello o la tosa e per il resto grandi trenini che si susseguono. È comunque stata una gara dominata da Red Bull o meglio dominata da Verstappen che fin dal sabato e qui andiamo un po' con il risultato della gara ha messo veramente del suo a delle avversarie veramente tanto tanto competitive perché sia Ferrari che soprattutto McLaren avevano portato degli aggiornamenti parecchio interessanti che potevano migliorare le prestazioni e logicamente provare a competere con Verstappen che comunque rimane sempre in predicato di vincere il mondiale anche quest'anno e anche che meritatamente comunque Verstappen riesce con un Q3 da panico nelle strade a posizionarsi in pole position e le McLaren invece hanno seconda e terza con la Ferrari quarta e quinta. Probabilmente le Ferrari potevano optare a sperare a qualcosa di più rispetto a questi piazzamenti. Alla fine poi per un impending su Kevin Magnussen Piastri viene penalizzato e comunque secondo sarà Lando Norris di fianco a Verstappen. La partenza non regala particolari scossoni di fatto i primi piloti vanno via esattamente come sono partiti e alla fine poi è una gara di passo e di noia oltre che ovviamente di sperare da spettatore del degrado delle gomme per vedere evidentemente chi l'ha gestita meglio rispetto a qualcun altro. E con qualcuno in realtà un nome ce l'ha perché Lando Norris dopo appunto un primo stint abbastanza difficoltoso con le medie riesce alla lunga arrivare alla distanza con delle gomme dure gestite meglio evidentemente rispetto a Verstappen. E alla fine con un recupero quasi da panico nelle strade Norris arriva allo sprint ma perde comunque contro Verstappen. Soltanto 8 decimi separano l'olandese e l'inglese e appunto Verstappen si conferma ancora una volta vincitore di un gran premio per comunque una McLaren che secondo me con due giri in più poteva secondo me attentare a provare a passare a Verstappen. Dico provare perché appunto un conto è l'idea, un conto è la concretizzazione di questa idea però comunque è stata una gara non così bella ma che comunque ha confermato il fatto che con le gomme dure McLaren aveva un passo sicuramente superiore anche rispetto a Ferrari e ha confermato che le prime guide ancora una volta l'hanno fatta da padrone in questi tempi recenti rispetto alle seconde. Perché appunto Verstappen, Norris e Leclerc che completa il podio per la Ferrari hanno di fatto dato la paga alle seconde guide rispettivamente Perez, Piastri e Sainz. Al netto che Sainz con le gomme medie ha fatto meglio di Oscar Piastri e poi dopo l'australiano anche col gioco dei pitstop e un errore forse nel scegliere il giro dove fermarsi per Sainz ha di fatto scambiato la posizione con lo spagnolo e di conseguenza è arrivato in quarta posizione. Non è per un mondiale di Formula 1 che ovviamente non è in discussione perché appunto Verstappen va a vincere l'ennesima gara della stagione. Di fatto Verstappen le ha vinte tutte tra le due e ovviamente quelle due sono quelle che non ho guardato. Accidenti a me, fatto sta che per l'ennesima volta in stagione suona Hetwil Helmus di nazionale olandese. Secondo Lando Norris che ripeto con due giri in più probabilmente avrebbe avuto la chance di superare Verstappen o quantomeno di provarci. Si conferma in terza posizione Charles Leclerc sicuramente uno degli uomini più in forma e il cavallo di punta in questo periodo dei Ferrari. Leclerc appunto è il secondo podio consecutivo, nelle ultime quattro gare non ha fatto mai peggio di quarto, anzi in tutto il campionato non ha mai fatto peggio di quarto. Segno che comunque la macchina Ferrari è competitiva per giocarsi sempre il podio a tutte le gare, non per vincere tutte le gare. Perché appunto davanti c'è Verstappen e non la Red Bull, cosa abbastanza fondamentale, però appunto Leclerc si sa in seconda posizione assoluta in questo campionato del mondo. Che comunque vede in terza posizione assoluta Sergio Perez a 107 punti che però oggi ha fatto una brutta figura, complice anche una brutta qualificazione. Perez è rimasto fuori dal Q3, partiva undicesimo. In quarta posizione invece arriva Oscar Piastri che appunto beneficia del fatto che Sainz si ferma tardi e quindi l'undercut del pilota australiano ha la meglio sul pilota spagnolo e dunque quarto Sainz, o meglio quarto Piastri e quinto Carlos Sainz. Un Carlos Sainz che dopo i fasti delle prime quattro gare fino al Giappone poi si è tra virgolette arenato in una quinta posizione. Di fatto Sainz è la seconda guida di questo pilota della Ferrari, pilota che rimane comunque in uscita, al netto che comunque un pilota che non fa mai peggio di quinto in tutta la stagione, senza dubbio è un pilota meritevole di un contratto anche l'anno prossimo in Formula 1 e siamo sicuri al 100% che Sainz in Formula l'anno prossimo ci rimarrà. Ma certo per un pilota che era partito così tanto bene, vedere solo quinte posizioni è un po' una flessione, al netto che appunto in generale secondo me per la Ferrari ci si poteva aspettare qualcosina in più rispetto agli aggiornamenti tanto paventati e tanto comunque portati in quel di Imola. Perché a Miami la Ferrari ha fatto leggermente più fatica ma non era aggiornata la macchina, a Imola la macchina era aggiornata e i risultati sono rimasti esattamente gli stessi ma questo per merito comunque secondo me di una McLaren che ha portato aggiornamenti più completi e ha secondo me certificato di essere in generale una contender per essere la seconda forza in campionato in questo momento. Al netto che la Ferrari di base parte dall'ambasciata per un'istituzione molto più interessante. Chi ha fatto una gara anonima invece è la Mercedes con Louis Hamilton e George Russell, sesto il pluricampione del mondo inglese al termine proprio di una gara che praticamente non l'ha mai visto protagonista se non per episodi spiacevoli come un lungo. Settimo è George Russell che è a stessa posizione anche in campionato appunto come è arrivato nonostante comunque il giro veloce. Al netto che però il giro veloce di Russell secondo me è più un lampo nel buio che altro. Ottava posizione invece per Sergio Perez che questo risultato però è figlio di una qualificazione orrenda. Perez è stato eliminato dal Q3 e appunto partiva undicesimo, ha superato qualcuno in partenza ma segno che comunque la differenza della fatta Verstappen è proprio la posizione di Sergio Perez che Sergio Perez ricordo essere comunque un buon pilota ma appunto non è un fenomeno come Verstappen. Verstappen ci ha messo tanto nel suo per arrivare al top in questa gara di Imola, Perez che è un buon pilota invece arriva in ottava posizione però addirittura dietro le Mercedes. Ecco diciamo che Perez se dovessi dare un premio si merita la divisione del giorno per questo motivo. Perez poteva puntare secondo me alla sesta posizione in carrozza però ottavo posto è veramente il peggior risultato della stagione e una posizione sottotona da parte del pilota messicano. In nonna posizione abbiamo Lance Stroll con l'unica Stone Martin competitiva in questo contesto, Alonso ha fatto una gara veramente inqualificabile, partiva indietro ed è rimasto indietro, Stroll invece in qualche modo arriva in nonna posizione. In decima posizione invece abbiamo ancora Yuki Tsunoda con un team Vicarb che comunque conferma di puntare sul giapponese e incredibilmente ha fatto bene perché comunque è vero che da Miami in avanti la Vicarb ha effettivamente aggiornato la vettura però comunque si sperava in un Ricciardo più competitivo. Invece è venuto fuori Tsunoda che appunto porta un punto per la gara di fatto di casa del team Faintino per un gran premio, un mondiale meglio di Formula 1 che avrà già una gara tra una settimana e sarà Monte Carlo, gara che non dovrebbe regalare scossoni incredibili, tendenzialmente è una pista dove la qualificazione fa sempre la differenza e quindi se lo sta per parte davanti assicuriamoci un'altra vittoria del pilota olandese. Io questa gara non la vedrò così come Le Mans della MotoGP perché sarà impegnato in un torneo della mia disciplina, io gioco a softball, è un torneo in quel di bollate quindi sicuramente in realtà non vedendo la gara Verstappen non vincerà, ne riparleremo però nel prossimo Racing Podcast. A Monaco non correrà però soltanto la Formula 1 ma correranno anche la Formula 2 e la Formula 3 che hanno corso a Imola e sono campioni decisamente più belli e decisamente più interessanti di questa Formula 1 che invece è già indirizzata. Sia la classe di mezzo che la classe entrante delle vetture a ruote scoperte hanno veramente tanto da raccontare e dei campionati veramente belli da seguire. In breve la feature race che si è corsa la domenica e che è stata preceduta dalla sprint race del sabato, sprint race vinta da Franco Colapinto, pilota argentino e di conseguenza sono il suo inno nazionale per il pilota del Williams Junior Team. Colapinto ha comunque la meglio di Paul Aaron, pilota del Junior Team della Mercedes che corre per il team Hightech. In terza posizione abbiamo il leader del campionato, il Barbadiano, Zayn Maloney che fa tanto bene in gara 1 quanto malissimo in gara 2. Infatti Maloney non prende punti in feature race, complice anche un'incapacità nel superare Roman Stanek, pilota cieco del Team Titan che comunque ha vinto una gara quest'anno e Maloney prende 0 punti. Ne approfitta Isaac Ajar, pilota francese che vince la seconda gara in due weekend dopo quella di Melbourne. Sono 50 punti realizzati da Ajar nelle gare sprint, calcolando che nel 59 in totale è segno molto importante evidentemente di costanza in questa concretizzazione per il pilota francese per il quale suona la Marsigliese. In seconda posizione nella gara feature abbiamo Gabriel Bortoleto, brasiliano che aveva omaggiato peraltro Ayrton Senna nel tentare della sua scomparsa. Seconda posizione è più importante del Junior Team della McLaren e in terza posizione abbiamo ovviamente Joshua Durksen ed è la più grande sorpresa del weekend. Il pilota paraguaiano che corre per il Team X Racing, team debuttante in categoria. Tutto il Team X Racing ha fatto 0 punti in stagione eppure Durksen, complice una grandissima strategia, riesce a portare a casa un terzo posto di fondamentale importanza. È il primo podio del pilota del Paraguay in questa serie ed è in assoluto il primo podio paraguaiano in questa Formula 2. Formula 2 che peraltro nella gara sprint ha avuto un clamoroso incidente con cinque piloti coinvolti, in particolare Ajar, Hauger, lo stesso Durksen, Fittipaldi e Stane che per fortuna nessuna conseguenza per una gara cautelizzata comunque soltanto da un grande spavento. Gare invece altrettanto interessante abbiamo avute in Formula 3, una Formula 3 che come la Formula 2 ha un campionato veramente tanto tirato e qui l'Italia può sorridere perché il leader è il piacentino Leonardo Fornaroli che comunque riesce in qualche modo ad allungare sui suoi diretti avversari che anche loro però sottoperformano ed è comunque interessante calcolando che Fornaroli qui poteva arrivare per vincere la gara Fitcher che però invece vince un'altra Trident, quella del francese. Sami Meghatounif anche per lui suona la marsegliese e anche per lui è prima vittoria in carriera. In seconda posizione abbiamo invece Oliver Goethe pilota del Team Campus di nazionalità tedesca e appunto terzo lo stesso Fornaroli di qui sopra e questo terzo posto è quello che invece lo lancia in ottica leadership del campionato ma anche qui come possiamo vedere dalla classifica generale la Formula 3 è ancora più compatta della Formula 2. Entrambe queste categorie che non hanno un vero e proprio padrone come la Formula 1 che è dominata da Max Verstappen e quindi saranno campionati assolutamente da seguire fino alla fine. Invece in gara sprint va a vincere Oliver Goethe che dunque a Imola fa di fatto una grandissima prestazione al netto che la gara l'avrebbe vinta al traguardo Noel Leon pilota messicano del Team VAR che però viene penalizzato subiudice dopo la cerimonia del podio. Leone è arrivato al traguardo per primo ma scala terzo vince Oliver Goethe che l'aveva peraltro superato in pista a Leone dopo una grande ripartenza dalla Virtual Safety Car. In seconda posizione abbiamo invece Team Tramnitz altro pilota tedesco per quanto riguarda il Red Bull Junior Team esattamente come Oliver Goethe dunque per entrambi sono il canto dei tedeschi dell'ordine nazionale e terzo quello Noel Leon di qui sopra che fu di fatto a Imola una vera e propria meteora perché appunto il Team VAR non aveva eccesso clamorosamente in questa sessione di Formula 3 eppure Leon era arrivato a giocarsi la vittoria aveva vinto al traguardo poi penalizzato per un Safety Car Infringement in una gara di Formula 3 che è arrivato a eliminazione è peccato però perché appunto Leon la gara sprint avrebbe anche meritato di vincere. L'altro italiano invece per quanto riguarda la Formula 3 è Gabriele Mini che comunque fa due buoni sesti posti in casa e appunto arriva in quarta posizione assoluta ma appunto sono tutti in gioco di fatto per il Mondiale fino al sesto settimo classificato di fatto fino addirittura a Tramnitz possono giocarsi il titolo in Formula 3 8 piloti di fatto per questo grandissimo campionato che appunto riprenderà la stagione tra una settimana a Monaco ovviamente il Principato. Questo dunque è anche simpatico per quanto riguarda la Formula 1, Formula 2 e Formula 3 anche per quanto riguarda Imola che dunque ha ripreso le corse dopo lo tragico alluvione del 2023 che è appunto costretto Imola a un anno di stop. Fatemi sapere di questa gara del campionato mondiale di Formula 1 in attesa dei prossimi appuntamenti di motori e non solo. Il prossimo video sul canale però parlerà di Sport USA perché parleremo anche con il doc di NHL per i playoff che sono arrivati alle semifinali di conference esaurite e quindi presenteremo anche le finali di conference e dunque ovviamente appuntamento a martedì ore 19. Il saluto da parte di Matthew Torgaard, ci vediamo al prossimo video.